Bentornati a tutti gli amici di Yokevoch Italia, io sono Shade e voi siete su Grand Cross in quanto Shug e Fabio sono impegnati in altre cose e quindi per vostra sfortuna ci sarò io ad intrattenervi con Nanatsu appunto gioco che odierete tutti in quanto è un canale di yokai, è strano vedere Nanatsu, strano anche per me far video di Nanatsu su questo canale però oggi mi renderò utile in qualche modo per agevolare il vostro modo di giocare a Nanatsu facendovi semplicemente vedere come farmare l'oro che insieme alle gemme è una delle risorse più importanti di questo gioco in quanto con l'oro fate appregridati i vestiti, awakenati i personaggi, fate gli equip che sono sfondamentali contando che questo gioco si basa sugli equip, vi aumenta di un sacco le stats e sì, è utile ed è strano che io mi renda utile in qualche modo allora per farmare le pozioni stamina ci sono tre modi principalmente pullare che è quello che vi ne frutterà di più contando che le prendete dal coinshop R quindi pullare con le gemme dopo ovviamente il metodo sgancia quindi ci sono le offerte stamina che non fanno neanche così schifo perché alla fine ecco 4 euro per queste palle che comunque vi danno molto oro in quanto sono 21 run e quello stage vi frutta un sacco di altre cose e 35 pozioni di stamina che comunque sono 40 milioncini di oro più o meno 35 poi qua c'è questa che non vi conviene per niente perché costa il doppio dell'altra e vi da meno pozzette e poi l'ultimo metodo è farmare i ticket cavaliere che vi danno quasi sempre un R che prendete o dall'evento di turno quindi sì oppure dalle town city oppure capitoli anche storia questi qua per intenderci vi ne danno veramente veramente tante è anche uno dei metodi che più vi consiglio per quanto non siano illimitate come quelle gemme dopo un altro l'ultimo metodo il primo quello delle gemme e quelle dei ticket ed entrano comunque nel pullare l'ultimo metodo è quello che ve ne da di meno perché sono 10 a settimana però sì sono sempre pozzette quindi per prenderle dovreste andare nello shop gilda io le ho già prese quindi non le vedrete sbloccate ed è questo qua dovrebbe essere nel livello 4 eccole sono 10 pots 200 punte gilda totali non è un problema poi consiglio se volete farmare tanto oro nel jump andate a vendere allo shop gilda oppure in town che c'è permanentemente questo 20% che è molto molto utile in quanto su grandi cifre di oro si sente come al posto di 100 milioni 120 milioni nel global invece dovrete attivare veronica vi faccio passare una clip a schermo per farvi vedere come si attiva anche se probabilmente lo saprete già tutti e mi sono reso di nuovo inutile per farmare oro il mio team è questo qua dov'è? aiuro eccolo anche se ci sono dei pg che non servono come Jericho mi servirebbe death pierce e easting perché non fa tutto sto danno vi consiglio lv shin gouter e death pierce che purtroppo io non lo ho come sub che abbassa la criss defense resistenza e quindi arriverete a one shotare anche se one shotterete comunque in quanto questo stage che adesso vi farò vedere non ha davvero vita e lo fate veramente facilmente vi consiglio di farmarlo il weekend in quanto costa la metà costa 24 posto di 48 lo stage è codesto con Dreyfus lo fate in tre turni più o meno adesso vi faccio vedere una run veloce veloce e partirò secondo non ho voglia di mettere le equip sono svogliato non li metto neanche in più tempo che carica la run wow allora questo stage ci fa ad occhi chiusi non hanno davvero vita 90.000 hp li fate con una carta seriamente lo si distrugge davvero senza nessun problema con una oe crepano tutti però comunque l'oro si sente ve ne da veramente ve ne troppa veramente tanto parliamo di più o meno se no 200.000 run per 24 di stamina al weekend farlo normalmente con i 48 di stamina non ve lo consiglio in quanto secondo me è veramente troppo fare i due run sole con una pozione partirò anche per secondo perché appunto come ho ribadito prima non ho voglia di mettere gli equip tanto sto stage lo si distrugge comunque adesso vi faccio vedere come scoppia 2 oe anche una quello che nobuff attivo e sono passati solo due turni quindi coater non è neanche completamente attivo però comunque dovrebbero crepare va bene ho fatto 4 turni nel posto di 3 non importa era una run per provare poi comunque vi consiglio lost vein e shin perché si auto reincappano ed è molto più stonks come cosa goater verde secondo me è l'unico pg che resta fisso anche se potrete mettere il rosso se non avete il verde io prima di non avere di trovare il verde usavo il rosso perché comunque alla fine schillappa il suo buff alle stats lo dà comunque non sarà esagerato come quello del verde però è un ottimo buff ah ho preso anche la cassa reward adesso andiamo a vendere una run è andata anche male perché di solito troppa 3-4 ssr una volta il massimo che mi hanno fatto è stato 6 ssr e 2 ur in una run è veramente tanto oro contando i 24 di stamina spesi e soprattutto l'importanza dell'oro in questo gioco in quanto si ne va veramente velocemente un equip maxato sono 2 milioni e 600 ho detto no è 262.000 per farvi un equip maxato invece per farmare i vestiti sono 1 milione e mezzo per gli ur 1 milione e 2 per gli ssr che poi andrete a fare a 2 r quindi comunque va bene sempre averne tanto ecco 171.000 ho detto appunto sui 200.000 va bene poi vorrei farvi vedere anche queste pietre verdi solo che non ce le ho le ho finite le ho già farmate però anche questo stage vi troppo veramente tanto oro non comprate queste sfere come vi ho consigliato prima comprate la stamina queste si ricaricano col tempo senza alcun problema adesso direi che per questo primo video su clan cross può terminare è stato davvero un piacere registrare questo video in quanto non avevo nient'altro da fare di più interessante spero di essere stato in qualche maniera utile e di avervi in qualche maniera aiutato ma direi che per oggi possiamo terminare quindi ciao ciao i vipi a momenti quindi è stato un po' di più